Che dire, ansia da morire. Intanto grazie per questa opportunità, ho fatto un po' di respirazione con Silvia mentre voi non vedevate e ho cercato di fare, e comunque ti assumo già come vocal coach. Allora, io sono Barbara Reverberi, sono una giornalista freelance come voi, quindi mi sento a casa. Sono felice di parlare a una platea che è un po' la mia platea, quella dei miei podcast. Mi è stato chiesto di lavorare anche un po' sul podcast per fare network e questo credo che sia quello che sono riuscita a fare. Prima offline, creando veramente un gruppo circa due anni fa, io ho dato vita al Freelance Network Italia, li saluto perché so che mi hanno rotto le balle da stamattina e quindi mi seguono anche via streaming. In sostanza abbiamo creato prima un network di persone, ci siamo visti, ci incontriamo regolarmente ogni mese, questo a Milano ma anche nel resto d'Italia, e poi siamo decollati piano piano anche creando sinergie di lavoro. Allora, di cosa parleremo? Come si prepara un contenuto? Cosa serve per cominciare? Registrare, pubblicare e distribuire. È pochissimo il tempo però vorrei darvi qualche strumento per cominciare a fare podcast anche da subito, da quando uscite, da quando sarete in treno. Intanto vi faccio una domanda, quanti di voi, vabbè, chissà cos'è un podcast? Tutti quanti, perfetto. Invece chi ascolta podcast? Un pochino meno. Chi fa podcast? Molto meno. Vabbè, allora la mia presentazione, tranne che per le slide queen, chiedo veni, anch'io, c'ho i balle, c'è il peggio che si poteva fare, l'ho fatto, però insomma cerchiamo di farlo insieme. Allora, quella che vedete là, vediamo se sono capace di, non funziona, eccolo lì, è in realtà una mappa mentale. Poi vi spiegherò, però in questo momento tenetelo a mente. Prima di cominciare, questa è la copertina del mio podcast che si chiama News per Freelance, per questo è rivolto proprio a voi. È il caso, ma non mi dilungo qua in realtà tantissimo, però mi fa piacere vedere che quello che ho scritto qua in realtà è quasi una logica prosecuzione di quello che noi abbiamo ascoltato ieri con Luigi Centenaro, e cioè il personal branding. Ma in particolare il podcast può essere un grande strumento di personal branding, soprattutto per noi freelance. Perché guardate, il podcast, diciamo che nella società della comunicazione, così è stata definita la nostra società, è diventato veramente uno strumento in cui la voce rappresenta un grandissimo punto per l'identità, per dimostrare la nostra identità. E soprattutto, badate bene, abbiamo ancora margine, perché come avete visto chi fa podcast è poca roba ancora. Quindi se riuscite a posizionarvi bene adesso con una bella idea, con un bel format, come diceva prima Miriam, beh, credo che si possa veramente fare strada. Pensate che dal 2015 ad oggi i podcast sono cresciuti del più 217% in tutto il mondo. Tanta roba. Quindi evito, però queste sono le domande che suggerisce di farsi Giulio Gaudiano, che è uno dei podcaster più noti, per identificare il contenuto. Contenuto cosa serve conoscere? Se abbiamo fatto il lavoro che ci ha fatto fare ieri appunto Luigi Centenario, non serve neanche rispondere a quelle domande, sappiamo già più o meno quale può essere il nostro obiettivo. Certo è che bisogna partire da noi, questo è quello che ho fatto. Io sono partita da me, avevo un'esperienza da dare agli altri, perché dopo sette anni di freelance, dopo che mi sono fatta un mazzo così, cadendo, rialzandomi, sbagliando un sacco di volte, anche con il commercialista tante volte, beh, insomma, qualcosa credo di averlo imparato. Ma soprattutto mi sono resa conto che quando io ho iniziato oltre sette anni fa, avrei voluto accanto qualcuno che mi dicesse cosa fare, perché tante volte mi sono sentita veramente sola. E quindi prima è nato il network concreto, freelance network, per condividere le idee, poi ho pensato perché non andare e creare un network che vada oltre anche il nostro piccolo e vada in rete e possa aiutare delle persone anche più distanti di me che però fanno network e che fanno soprattutto, come dire, lavorano da liberi professionisti con gli alti e bassi che conosciamo. Quindi avevo qualcosa da dire, avevo qualcosa di cui parlare, conoscevo l'argomento sì, non sempre, nel senso che qualche volta non lo conosco, mi documento, tant'è che nei miei podcast faccio anche recensioni di libri, leggo tantissimo, parlavamo anche ieri a pranzo, sto facendo la challenge dei 30 giorni del Miracle Morning, mi sveglio alle 6 meno un quarto del mattino e quindi chissà che roba verrà tra un mese, ve lo dirò. Comunque certo che dove non ci si arriva bisogna arrivarci. Conoscere il pubblico, lo conosco, nel senso che essendo io è come se mi mettessi un po' dall'altra parte, ma la cosa bellissima è che devo veramente essere grata perché sto ricevendo tantissimo, sto ricevendo tantissimi feedback di persone che mi ascoltano sempre, aspettano il mio podcast perché faccio compagnia, perché comunque i miei contenuti interessano, quindi sono contenta. Poi vi farò vedere delle recensioni, insomma chiamiamole così, avere un obiettivo, il mio era quello di condividere, di trasferire un po' della mia conoscenza agli altri, ascoltare altri per ispirarsi, io ascolto tutti, ieri ho ascoltato subito Chiara, ci ha detto che ha un podcast e ieri sera prima di addormentarmi l'ho ascoltato, pericoloso ascoltare i podcast prima di addormentarsi perché sono soporiferi in generale, quello di Chiara è bellissimo, è fatto benissimo ma è un po' l'effetto degli audiolibri, cioè io vado un po' così. Vabbè, scegliere un argomento l'abbiamo già detto. Contenuto, come prepararlo? Allora, io devo dirvi che all'inizio avevo l'ansia come ce l'ho adesso, quindi mi scrivevo tutto, studiavo un argomento, mi scrivevo proprio tutto, mi registravo e all'inizio la mia voce faceva, posso dirlo, cagare, cioè proprio non mi piaceva proprio, è veramente bruttissimo ascoltarmi, non riuscivo ad abituarmi all'idea, quindi anche un primo approccio al podcasting è prendete le vostre cuffiette del telefono, le inserite, quando siete in un angolo da soli piuttosto che in bagno fate una registrazione, provate ad ascoltare la vostra voce, ma solo per abituarvi all'idea e già cambierà tantissimo. Quindi dicevo, me lo scrivevo tutto, lo leggevo, verificavo se stavo più o meno nei tempi che mi ero data, i miei podcast sono 20 minuti quando ho un ospite e quando sono da sole intorno al quarto d'ora, non vado oltre ma perché secondo me è già tanto così, però se ci sono dei contenuti molto interessanti ci sono podcaster che li fanno anche di un'ora e anche di più. Poi ho smesso, nel senso che non ho più scritto così tanto, ho cominciato a cerchiarmi le parole chiave, ho cominciato a andare un pochino a braccio per non far sentire che stavo leggendo evidentemente, tant'è che se voi prendete i miei primi podcast e gli ultimi, beh insomma mi dicono che c'è tanta differenza. Io poi devo ringraziare particolarmente Emanuela, vi leggerò la sua recensione all'inizio, è stata una delle mie criticissime, magari mi sta sentendo quindi va bene e vi leggerò l'ultimissimo messaggio che mi ha mandato proprio martedì. Scrivere solo per punti principali e poi usare le mappe mentali. Non so se ce la faccio perché ho poche mani, ci vorrebbe la Dea Cali del logo, comunque queste sono le mie mappe mentali. Questo che vedete è tutto il libro dei miei podcast, nel senso che alla fine, dopo se volete ve lo faccio vedere, ho cominciato davvero a far così andare un po' l'immaginazione, colore, rami che si ramificano ancora e questo mi è servito tantissimo e sono diventata molto più fluida anche nel podcast. Ecco, com'è la struttura di un podcast? Beh, io faccio dei monologhi, raramente faccio delle interviste, dipende dalla persona che avete di fronte. L'intervista implica che vi prendiate un momento, che abbiate uno strumento che vi consente di registrare a distanza, che può essere Zoom, cioè Zencaster, la stessa, dopo la vedremo, piattaforma di speaker, collegando Skype, consente di fare la registrazione dell'intervista. Però, siccome sono una incasinata, l'intervista per me è trovare un momento con l'agenda libera, conciliarlo con quella degli altri, siamo tutti super incasinati, faccio che ho fatto un ibrido, io faccio un intro, faccio un outro, al centro ci metto la registrazione del mio ospite. Concordiamo insieme alcune domande alle quali il mio ospite risponde stando dentro quel minutaggio, proprio per non sforare troppo. Ha un'introduzione che serve per informare, ha un tema e direi che tema e sviluppo sono la parte centrale, finisce quasi, va in chiusura con una call to action che serve per convincere e infine saluti, baci, recapiti, contatti. I feedback sono fondamentali, questo per permetterci di migliorare. Allora, la voce, Silvia, qui saresti meglio tu, ma comunque. Sulla voce, io sto studiando tantissimo adesso su questo argomento perché mi rendo conto che il podcast è proprio questo, è trasmettere attraverso la voce. Bene, io attraverso la voce vi devo coinvolgere. Se io fossi qua e parlassi lo stesso e voi non mi vedeste, dovrei trovare un modo per catturare la vostra attenzione. Quindi noi abbiamo un tono che è la nota musicale, ciascuno di noi ha un tono differente, può essere media, può essere bassa, può essere alta, dipende. Oppure il volume, il volume è chiaramente più alto, meno alto, questo immaginate, se la voce diaframmatica spacca, cioè arrivo anche là in fondo, oggi no perché ce l'ho parecchio alta. Tempo, lento, medio, veloce, ritmo, pausa. Il ritmo è quello che vi permette di, prima di una cosa importante che dovete dire, fermatevi, pausa e state tutti qua a guardare. Questo è l'effetto che deve fare, no? Cioè sto anticipando che ci sarà un argomento importante al quale tengo molto. E poi il sorriso, cioè io sento dei podcaster che saranno strafighissimi, molto più di me, perché il mio è solo la mia semplice umile opinione, ma neanche, insomma è quello che io faccio, cerco di trasmettervelo, però ci sono certi che ascoltarli per mezz'ora già si sbadiglia così, quindi vero, no? Cioè diventa complicato. Ma c'è una soluzione, c'è una tecnica, la tecnica che anch'io ho studiato e che vi consiglio di approcciare, vediamo se funziona, con questo link qua in alto che vi ho dato, è un link interessante a Ciro Imparato, purtroppo è mancato, ma è stato un vocal coach straordinario, un uomo straordinario, nel senso che era veramente empatico e lui ha presentato i colori della voce e si chiama il Four Voice Color Method. È il metodo dei quattro colori della voce. I miei podcast sono un po' fatti così, all'inizio voce gialla, che è quella della simpatia. Poi la voce verde, che è invece quella della fiducia. Voce blu, quella autorevole. Quando sono nella parte centrale del mio podcast e devo dire, possibilmente non delle capperate, cerco di entrare nel mood e vado nella profondità del tema. Devo essere autorevole. Immaginate blu, le persone quando sono i colletti bianchi vestiti di blu sono quelle persone lì, immaginate questo. E infine la voce rossa, che è quella che invece vi deve, come dire, appassionare, insomma farvi un po' lasciare un ricordo bello, come dicevano le slide queen. Vado sull'istrumentazione. Allora, potete cominciare a registrare fin da subito col vostro cellulare e le possibilità sono le classiche cuffiette del telefonino, il boia, che vedete sulla destra, quello, che invece è un levallier, decisamente già comincia a essere una cosa più carina e secondo me è un ottimo prodotto, davvero. E poi c'è il Samson Meteor, che è questo al centro, questo sifulotto qua, che comincia a costare 65 euro. Quello che sentivo dire prima, lo ribadisco, l'importante è cominciare. Io ho fatto un corso di conduzione radiofonica e mi pediva da ridere mentre salivo perché la mia ansia era la rampa e io oggi sono salita su una rampa. Io quando vedevo la rampa, non so se conoscete nel gergo, comunque la rampa è lo speech piccolino prima che introduce la canzone, no? Allora avevo quello che metteva la canzone e mi diceva uno, due, tre, io che dovevo parlare dovevo stringere le parole. È stato veramente difficile, quindi le rampe mi mettono ansia. L'altra alternativa sono le note vocali di Telegram. Vabbè, lo vedete qui a sinistra, non va sempre questo. Che possono essere utili? Ad alcuni dei miei ospiti, dico semplicemente, metti le cuffiette del telefono, registra sulle note vocali di Telegram. Poi io le trasformo, nel senso che sull'online, su internet trovate dei convertitori e sono anche buoni, mettete la qualità al massimo del possibile e sì, sono buonissimi. Questa è la mia scrivania che vedete sulla sinistra, piccolina, lì faccio tutto, non ho cose stratosferiche, che, ecco, tutti questi microfoni sono con la USB, l'entrata USB e comunque questo che è il Blue Yeti, io lo ritengo uno degli strumenti più buoni. Costa 140 euro, ma se aspettate il Black Friday costa anche meno, quindi ve lo consiglio, se volete cominciare. Come vedete c'è il cavetto bianco che sono le cuffie perché mi sento, quando pregistro, e il cavetto nero. Quello che vedete sopra, che mi hanno detto è una padella, cioè qualcuno mi ha detto una padella vuota, quella antiaderente, si chiama filtro anti pop-up. Come sentite adesso? Pop-up. Io sparo le conclusive in generale, le labiali mie sono parecchio, insomma, si sentono. Quindi questo serve per evitare, per mettere un filtro, no? E quindi risulta più fluido. Vi racconto un aneddoto che quando ho iniziato a fare podcast, ho fatto le prime registrazioni, come vi dicevo la mia voce non mi piaceva, e ho mandato la mia registrazione a un po' di amici, tra cui un'amica carissima di Radio Monte Carlo, e lei mi, no scusate, il mio compagno mi ha detto, amore però sembri una porno star, potresti cambiare, e io amore ho detto come faccio a cambiare il mio tono? Poi l'ho mandata a Derina, amica di entrambi, e Derina mi fa, ma no, hai la voce di Radio Monte Carlo, io che figo, ho detto vabbè, famosa è sta roba. Comunque per dire, si può migliorare sempre, io ne ho parecchio. Allora, RODE, scusate, sono andata troppo veloce, volevo schiacciare questo. Eccolo qua. Allora, il RODE è quello centrale, che ha già un filtro antipop, come vedete. Quello che vedete tutto sulla destra, invece, il RODE Podcaster, è un ottimo strumento, molto costoso, perché siamo intorno ai 247 euro, però un po' sfigato, secondo me, nel senso che devi parlare molto vicino e quindi non è così duttile. Invece lo Yeti ha un rubino che permette di girare, puoi decidere di registrare da solo, e quindi la voce si canalizza di fronte, oppure fare le interviste. Si cambia questa modalità e puoi già anche intervistare direttamente. Vado un po' veloce, scusate, non riuscirò a darvi tutte le istruzioni, ma questo è il software che ci serve. Ed è Spreaker. Fondamentalmente Spreaker consente di fare tutto. Consente di fare quello che vi avevo detto all'inizio, di registrare, di pubblicare, di contenere, perché è anche un hosting, e poi consente di distribuire. L'altro che vedete è Audacity. Audacity è gratuito, tra l'altro poi alla fine vi darò delle risorse, seguitele, perché ci sono persone che vi dicono, ah, la Z in 45 minuti di video, come si fa un podcast all'inizio alla fine, e anche una guida scritta per questo. Audacity a me consente di montare queste ibride interviste che faccio. Quindi registro la mia intro, monto l'ospite, registro la mia outro, monto in fondo. Risultato, le metto una in fila all'altra, facendo dei copie e incolla come se ci fosse la traccia normale, e ho il podcast che ascoltate oggi. Questo, come vi dicevo, è Spreaker, e come vedete già da subito, eccolo lì, crea un podcast con Spreaker. Niente di più facile, vi registrate, entrate. Confesso che avevo chiesto a Spreaker di darmi un codice sconto per oggi, ma hanno la lentezza dei bradi più malati, e quindi non sono riusciti a mandarmelo per tempo. Se dovessi riuscire ve lo do, sì, tempo, vado. Questo è quello che ci permette di fare Spreaker, questo è come, è la piattaforma così come la vedete, voi semplicemente iniziate, inizia, e potete già registrare. Potete registrare sia live che offline. Poi questo è come si crea lo show, quindi voi potete dire crea un nuovo show, compilate i campi che sono richiesti, il titolo, vi ricordate quando all'inizio vi ho detto pensate più o meno all'argomento, masterizzatelo, perché dovete poi frazionarlo per il vostro piano editoriale, il che significa che dovete scegliere un titolo, in questo caso per lo show, che sia quello che per me è stato news per freelance. Si suggerisce che non siano troppo lunghi, non più di tre parole, insomma, e magari non utilizzate degli hashtag, piuttosto che delle parole anche inglesi non note, per cui fareste fatica ad essere trovati. Vado un po' veloce, comunque potete montare l'immagine, l'immagine di copertina. L'immagine, per intenderci, immaginate il profilo LinkedIn e l'immagine immaginetta, l'iconcina piccolina con la vostra faccia, la copertina è quella che sta dietro, no? Di sfondo. Si fa con canvas, con canvas, scusate. Questo era un po' riepilogo, poi lo troverete, la copertina si fa con canvas, questo è per caricare l'episodio. Vi posizionate là, c'è scritto carica episodio, perché l'avete registrato, l'avete portato sul vostro computer e lo potete caricare direttamente su Spreaker. In questo modo viene, come dire, conservato all'interno di Spreaker. Lo caricate, l'episodio viene finalizzato, ogni episodio, quindi c'è lo show, che è il vostro show, News per Freelance, e poi ci sono invece tutti gli episodi. Non credevo che sarei arrivata all'87, non so quello che sono arrivata, pensavo di mollare prima, invece mi piace, quindi vado avanti. Mettete i tag, in questo momento non sono molto funzionali, nel senso che Spreaker non è che ci porta a SEO in questo senso, però sono utili e sicuramente verrà questa cosa, insomma cominceranno a funzionare. Questo consente, date con il flag, l'autorizzazione a downloadarli, quindi a scaricarli, infatti ho persone che scaricano proprio i miei podcast e soprattutto potete programmare, vedete nella parte finale, data di pubblicazione, potete programmare l'uscita dei podcast. Ecco che Spreaker vi dà anche la possibilità di collegare ai vostri social direttamente il vostro podcast e parte in automatico. In realtà poi io utilizzo PostSpeaker e faccio in modo che esca anche nei miei canali con un'altra, cioè mi metto una caption un po' differente, però già Spreaker vi dà questa opportunità. E naturalmente la distribuzione su tutte le piattaforme di podcasting. Spreaker direttamente, Spotify, Apple Podcast, iHeart Radio, Google Podcast che è recente. Questi sono i feedback. Vabbè, Manuela è stata criticissima, mi scrive via Telegram e mi fa un audio in cui mi dice, guarda mi piace tantissimo quello che dici, però dovresti essere più trainante. All'inizio ero una palla al piede, nel senso che ero piuttosto lenta, facevo fatica, avevo paura, insomma vederti lì col microfono è tanta roba. Poi Monica che invece è come lei tante persone. La cosa bella di cui veramente sono felice e ringrazio sono questi feedback perché mi dicono che sono sulla strada giusta, posso migliorare, sicuramente dovrò migliorare, prometto che farò un jingle per il centesimo episodio, lo giuro qua così poi sono cazzi miei se non lo faccio, va bene. Però intendo dire che quello che sono riuscita a fare è che le persone scaricano i miei podcast o mi ascoltano mentre fanno Pilates, parlavamo ieri dell'unico caso di multitasking possibile e davvero si entusiasmano e faccio compagnia e do loro restituisco dei contenuti di valore. Questi sono i piani tariffari dove avrei voluto darvi il codice sconto, quindi le varie tipologie possono essere il monologo, parli solo tu, dieci minuti, un quarto d'ora, venti minuti, non di più, intervista che invece c'è fatta a distanza oppure il mio ibrido di cui vi ho parlato. Queste sono le guide imperdibili e un po' di risorse, le troverete poi nelle slide. Comunque Giulio Gaudiano sicuramente tra l'altro tiene adesso un corso radio speaker dove io ho fatto il corso di conduzione radiofonica, Andrea Ciraolo che su Telegram ha anche un canale e su Officine Me fa dei corsi e su YouTube trovate proprio la guida a quel link, è la guida per fare podcast da A alla Z. Giacomo Lucarini, ve lo segnalo perché è molto interessante, è l'unico che ha fatto dei podcast nativi su Telegram. Lui con Canva prepara una copertina, la pubblica sul suo canale Telegram e fa seguire un audio che è registrato su Telegram direttamente. E poi Italian Indie che sono stati dei precursori. Queste sono altre due risorse da leggere, grazie per questo slide, perché l'ho fatta in metropolitana. Comunque questo è il libro di Giulio Gaudiano, podcasting, lo vedete sulla destra. Sulla sinistra vi ho suggerito video public speaking di Chiara Alzati, è uno dei tanti, però Chiara è molto brava e segue anche un percorso online, ho fatto con lei questo percorso e mi ha dato tanto, per questo l'ho inserita. Grazie. Insieme è meglio è il mio hashtag, quindi grazie, grazie a tutti.